Ancora una volta i residenti San Giacomo si sono visti costretti ad operarsi per sgomberare stai dal cespuglio e dal fango che ha letteralmente ristretto la viabilità delle carreggiate e tutto ciò continua a rappresentare un vero e proprio pericolo per la normale circolazione stadale. E quanto denuncia il consigliere comunale del PD Mario Chiavolo che allo stesso tempo non perde occasione per ringraziare i cittadini i quali, a titolo assolutamente gratuito, si sono dati da fare con mezzi al lavoro proprio per risolvere la situazione. Residenti che si chiedono, afferma Chiavolo, come mai il comune non proponga una manifestazione di interesse destinata alle aziende agricole della zona con regolarità di posizione per pulire e scerbare le strade. D'altronde una procedura simile, ricorda Chiavolo, è stata utilizzata nella vicina modica con risultati interessanti e con cifre che non supererebbero di molto il centinaia di migliaia di euro. Si potrebbe fare quindi in modo che ogni azienda partecipante si occupasse di un tatto di strada e la lunghezza di alcuni chilometri. Abbiamo invece appurato che è stato pubblicato un bando dell'ambontale di oltre 900 mila euro e non sappiamo, continua Chiavolo, a che punto è l'iter e quando i risultati potranno avere concrete ricadute sul territorio. E ancora aggiunge Chiavolo che nel marzo del 2014 era stata presentata un'interrogazione in merito dal gruppo consigliare PD. Sulla questione era arrivato sul laconico di Niego come risposta da parte del Comune.